Michelle Unziker ha trascorso qualche giorno in Costa Smeralda Il settimanale Chi la paparazzata insieme al ballerino Andrea Cavalieri La conduttrice svizzera Michelle Unziker ha trascorso qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme ad alcuni amici Il settimanale Chi la paparazzata insieme al ballerino Andrea Cavalieri, che era già apparso in qualche suo video precedente Il mondo del gossip grida alla nuova relazione. Michelle Unziker, in Sardegna con Andrea Cavalieri Michelle Unziker negli ultimi giorni è stata paparazzata dai fotografi di Chi durante una piccola vacanza di relax in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme a un gruppo di amici Tra questi, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbe stato anche il ballerino Andrea Cavalieri La conduttrice è stata avvistata ridere e scherzare in acqua col giovane Soltanto alcune settimane fa la conduttrice di Io Canto Family è stata avvistata a cena con Matteo Viezzer, amico di Mattia Narducci, il fidanzato della cantante Anna Tatangelo Come mostrano gli scatti del settimanale Chi, invece, la showgirl ha deciso di godersi qualche giorno di relax in Sardegna Sembrerebbe che il motivo della sua breve vacanza sia da stato per scegliere una casa dove soggiornare durante le prossime vacanze estive La Hunziker ha trascorso la giornata a bordo gommone con alcuni amici, come il ballerino Andrea Cavalieri Il giovane è visto spingere la showgirl in acqua, e scherzare con lei davanti ai presenti Tra loro ci sarebbe, un rapporto più cameratesco che sentimentale, scrive il settimanale Al momento, però, non sono arriva conferme, o smentite dai diretti interessati La conduttrice di Io Canto Family era stata avvistata a cena fuori anche con l'imprenditore Matteo Viezzer e il mondo del gossip aveva parlato di una nuova relazione Nonostante dalle foto i due sono apparsi piuttosto complici, anche in quel caso si è trattato soltanto di ipotesi La conduttrice ha condiviso recentemente un breve video in compagnia del ballerino Andrea Cavalieri Il giovane è apparso anche nel corpo di ballo dello show La Chiappa Talenti, in onda su Rai 1 I due hanno imitato in chiave ironica la celebre scena del film Dirty Dancing, con la Hunziker nei panni della protagonista Mai private dancer, ha scritto la conduttrice come Dida Scalia del suo post su Instagram Secondo molti utenti il loro è un rapporto prevalentemente amichevole GETTIMUS e veramente amichevole Semida